Oh, beh, con Elvira. Elvira? Eh, scusa, ma non ti dovevi sposare con lei? Elvira ha rifiutato la mia proposta di matrimonio. Oh, scusa, ma tu non le hai detto che tuo zio è ricchissimo e tiene un sacco di soldi? Certo che gliel'ho detto. E me? Adesso Elvira è mia zia. Certo che gliel'ho detto.